Auto che hanno fatto la storia, dal fascino della Ferrari fino alla Fiat 500. Loro saranno le protagoniste del raduno che partirà da Arezzo e toccherà Castiglion Fiorentino. Questo è l'evento, diciamo, quasi a chiusura del centenario della Tournament Club di Arezzo. È un evento importante, è un evento di Aschitalia. Questo percorso che parte da Arezzo si sviluppa in strade molto belle, giunge a Castiglion Fiorentino e poi torna ad Arezzo. È il modo, in qualche modo, per celebrare davvero anche la bellezza delle auto. Auto di una importante, diciamo, auto che sono di tantissimi collezionisti aretini che quindi hanno avuto la possibilità. Noi abbiamo già un gran numero di iscritti, siamo già oltre 70, oltre il numero che abbiamo messo come base, quindi un grande successo alla base di tutto questo. Ma soprattutto anche la nostra volontà di promuovere il territorio. Tutto questo è seguito da C-Sport e quindi avremo anche la televisione che seguirà questo evento. E questo evento verrà poi riproposto nel corso di tutto l'anno con dei servizi veri e propri su Arezzo. Ci saranno anche degli esemplari di macchine davvero belle da vedere. Sì, quest'anno tra i 70 iscritti vedremo delle macchine di eccellenza. Spero anche con alcune sorprese che ancora ci devono confermare. Quindi non voglio svelare nulla, perché poi le macchine saranno tutte parcheggiate su Alprato in Fortezza durante il nostro pranzo in Piazza Grande.